Oggi ospite della nostra redazione giornalistica è intervistato dal nostro direttore Piero Giunta il candidato sinnaco sostenuto dalle liste Progetto Verde e Fratelli d'Italia alle amministrative dello scorso anno ad Ispica, Antonello Calvo, che ricorda da giovane socialista la figura del dottor Nello Tringali. Inoltre, Antonello Calvo, dal suo punto di vista di opposizione fuori gli scranni del Consiglio Comunale Ispicese ma attivo in città, fa un bilancio critico ma anche propositivo, tra virgolette, dell'azione amministrativa del primo anno della giunta guidata dal sindaco Inocenzo Leontini. Ascoltiamo Antonello Calvo. Antonello, questa nostra chiacchierata radiofonica non può iniziare con il tuo ricordo del dottor Nello Tringali. Tu eri giovane come tanti di noi e ti affacciavi alla vita politica socialista di allora ed hai conosciuto il politico Nello Tringali, sindaco di Ispica e dopo configliere provinciale socialista a Viale Delfante. E, Antonello, che ricordo intimo ti porti del dottore Nello Tringali. Grazie Piero per questa domanda d'obbligo perché è da poco che abbiamo appreso della dipartita di questo grande uomo. Non è stato solo il sindaco, l'assessore, il politico socialista della città ma per me è stato anche un grande amico fino a pochi giorni fa, cioè prima dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Abbiamo da sempre scambiato con lui opinioni sulla politica, a volte divergendo su alcuni temi, ma sempre con la passione da socialisti che ci ha legati e con l'attenzione massima al mondo del lavoro, a cui lui teneva tantissimo. Questo l'ha dimostrato nel suo ultimo scritto per il quale ho avuto il piacere di collaborare con lui. Abbiamo trascorso un'intera estate a rileggere questi bellissimi scritti, aneddoti e soprattutto perché il legame familiare fra la mia famiglia attraverso mio zio Meno Aprile, che è stato un suo collaboratore nonché assessore, è stata la filiera attraverso la quale io sono entrato nel mondo socialista e che mi ha fatto apprezzare questa meravigliosa ideologia, che purtroppo per i tempi in cui siamo è rimasta tale, ma che forse dovrebbe essere un po' rispolverata. Il mio ricordo più caro per questo grande uomo è un affettuoso abbraccio ai due figli, a Salvatore e a Gianni, che tra l'altro sono due miei altrettanto carissimi amici. E passiamo alla vita politica dei nostri giorni. Sono esattamente passati un anno e venti giorni dall'elezione di Innocenzo Reontini al sindaco di questa città. Tu sei stato candidato antagonista all'attuale sindaco e, Quantonello, ti chiedo, visto dall'occhio dell'opposizione, non quella consigliare, ma quella civile, attiva sul piano politico ispicefe, su questo primo anno e qualche giorno di amministrazione Leontini. Cosa mi dici? Piero, facciamo tutti il tifo per la nostra città meravigliosa e vorremmo sempre che questa città prenda la piega giusta, abbia un progetto complessivo e chiunque sia a portarlo avanti, benvenga, faremo il tifo per tutti gli uomini di buona volontà per questa meravigliosa città. La persona di cui abbiamo parlato prima, il dottore Enello Tringale, è stato un artefice della rinascita di questa parte di Sicilia. Quindi penso che tutti dovremmo onorare ciò che è stato fatto dai nostri genitori, dai nostri amici. Io, un po' scherzando, ho definito un po' vintage l'amministrazione attuale perché è un po' una moda, quella di riprendere alcuni atteggiamenti del passato, alcune mode. Però mi preme dire che ogni moda è moda nel tempo in cui vive, cioè ognuno di noi deve essere cittadino del proprio tempo. Alcuni atteggiamenti, alcune cose non possono essere un buon abito per tutte le stagioni. Senza nessuna polemica, però vorrei dire che c'è un tempo per le elezioni, un tempo per la gestione, per la programmazione. Ecco, in questo momento, sempre facendo i migliori auguri al prosieguo dell'amministrazione, però è chiaro che qualche appunto bisogna pur farlo, perché viviamo quotidianamente un territorio dove ci sono delle problematiche molto, ma molto evidenti. E soprattutto c'è poca aderenza fra il programma che è stato presentato a suo tempo e quello che è stato realizzato fino adesso. A un anno dall'insediamento, quello che mi sarebbe piaciuto sarebbe stato una sorta di inquadramento dei temi e un'eventuale prospettiva data ai cittadini, una prospettiva di sviluppo su determinati argomenti, soprattutto su quelli principali. Quello a cui teniamo soprattutto, ultimamente, e sotto gli occhi di tutti, sarebbe l'ambiente, perché non è più come una volta, caro Piero, una volta l'ideologia, la socialità, era tutto, perché non pensavamo che l'ambiente potesse, in futuro, determinare anche condizioni che poi ci avrebbero vincolati in qualche modo. Oggi non possiamo parlare di socialità se non parliamo dell'ambiente in cui viviamo e come dobbiamo proteggerlo. Quindi su questo, che è un tema a me carissimo, io cerco sempre di essere intanto propositivo, però è chiaro che alcune cose bisogna sottolinearle. Non ultima, lo sfogo che ha avuto l'assessore all'ambiente davanti a quel cumulo di rifiuti che c'era alla Ucca Marina, quello è un segnale, direi, di debolezza rispetto a questo grande ambiente che dobbiamo gestire e che non riusciamo ancora a determinare e soprattutto custodire rispetto agli ingivili che ancora purtroppo sono presenti. Questo tema per me è importantissimo, lo potremmo sviluppare e spero che in futuro ne abbiamo possibilità anche con l'amministrazione comunale. Però Antonello, ti sei concentrato sul problema ambiente, un problema attuale a te caro, ma un sindaco deve avere la visione politica ad ambioraggio ed ispica soffre in questo momento di tanti problemi. Lo dico a tutti, la classe politica esplicefe tutta dovrebbe essere più partecipe e attenta senza cercare la pagliuzza su ogni questione. Antonello, sei d'accordo con me? Piero, sono certamente d'accordo, i problemi sono numerosissimi e non pretendiamo assolutamente che tutto venga risolto con un colpo di bacchetta magica, però vorremmo intravedere le tracce delle possibili risoluzioni. Io mi voglio soffermare, e te lo leggo testualmente, una traccia del programma nella premessa di Innocenza Leontini. Arrivato a un certo punto dice, ed è un passaggio che mi piace moltissimo e che vorrei che venisse utilizzato dall'amministrazione, dice così, è essenziale riscoprire quanto sia determinante e insostituibile il contributo di ogni cittadino alla vita della comunità, comprendere come si possa rispondere ai bisogni degli abitanti, concorrendo a rendere la città più vivibile, più accogliente, più ordinata e più bella. Parole meravigliose, però a queste vorrei che seguissero dei fatti, anche se non proprio i fatti, comunque una bozza di quello che potrebbe essere la città. Però è un po' l'ambiente che è il leitmotiv della situazione. Però questo poi ci vingola sulla tassa sui rifiuti, che in programma si diceva che potesse essere subordinata a una possibile riduzione oppure a una premialità verso chi avrebbe meglio differenziato. E questo purtroppo ancora non lo intravediamo. Vediamo solo delle multe combinate all'azienda che gestisce i rifiuti, ma nient'altro. In questo momento dovrebbero essere i cittadini a sollevare questo problema e, come dire, sanzionare l'amministrazione. Capisco che è difficile, però bisogna muoversi. A questo dovremmo aggiungere un problema importantissimo che è quello dell'agricoltura, a proposito del fatto che non è solo l'ambiente. Sappiamo benissimo il problema legato al nostro territorio. Io nel mio programma allora ne parlai e posi anche delle possibili soluzioni. Tutto ritorna come tema attuale, perché siamo lì con le piogge che ogni tanto ci avvertono, che prima o poi arriveranno, ma i canali sono quelli che ancora sono. Il territorio è in balia dell'ultimo dissesto idrogeologico che abbiamo avuto rispetto all'ultima alluvione del 25 ottobre 2019. Esiste la consulta dell'agricoltura. Questa consulta che purtroppo io ancora non ho vista attiva e che potrebbe occuparsi di questo tema importantissimo per la città che l'agricoltura, sia per il territorio e sia anche per l'aspetto socio-economico che l'agricoltura vive. Da molto ci sono state delle grossissime lamentele dovute agli aumenti spropositati rispetto all'aumento del carburante e così via, ma che non premiano mai gli agricoltori. E siccome ancora noi viviamo di agricoltura non si è trovato il modo di ricompensare gli agricoltori per quello che effettivamente fanno e per i prodotti che coltiviamo. Quindi la consulta che venga messa in moto, se è necessario si modifica. Siccome io ritengo che anche politicamente il sindaco non è più come una volta l'uomo che prende tutti i voti, ma direi che è la somma dei voti che i suoi assessori, consiglieri, quelli che si mettono a disposizione, quella somma fa il sindaco. Quindi il sindaco deve lavorare di squadra. Non si può accettare che ci sia una divisione che in qualche modo si è vista rispetto a teme quale lo sport, l'ambiente da un lato, gli spettacoli e così via. C'è stata un'estate, diciamo, movimentata che ha impegnato circa 50.000 euro delle nostre casse e un comune che ha il secondo dissesto. Insomma, alcune cose capiamo che si rendono necessarie, però il padre di famiglia deve fare sempre, deve farsi il conto con le proprie tasche. A proposito anche di lavori pubblici, per esempio, ho visto che l'ultima grossa delibera di giunta prevede un progetto per la costruzione di un impianto, un palazzetto dello sport, un nuovo palazzetto. Io dico sempre che sarebbe opportuno recuperare l'impiantistica che abbiamo, che purtroppo non utilizziamo. Tutti vogliamo il teatro, il nuovo palazzetto, però dobbiamo farci i conti con le nostre disponibilità. ancora non ho visto soldi spesi per la viabilità rurale, per esempio, dove si rende necessario, dove si vive quotidianamente. Sono piccoli aspetti che andrebbero corretti e il sindaco in questo, da buon allenatore di questa squadra, dovrebbe richiamare qualche assessore all'ordine e dire un momento, ma che cosa stiamo facendo? Un milione, cento e rotti per il palazzetto? Bene, ma pensate che oggi sia necessario avere il calcio a cinque, perché a quello verrà dedicato. Non è che possiamo pensare ad altre cose. Io lo capisco, sono belle in realtà, però in città non esiste solo lo sport, il turismo, lo spettacolo, c'è l'agricoltura, tutto va bene, ma le priorità forse andrebbero sistemate. L'ultima mia domanda è questa, Antonello. Non ti chiedo un voto, ma un giudizio politico sintetico sul primo anno di amministrazione speciefe a guida in Ocenzo Leontini. Piero, il giudizio lo deve dare sempre il popolo. Io sono, come dire, uno di parte e comunque do sempre un sei politico per incoraggiare più che altro in un prosieguo brillante. Io chiaramente farei qualcosa di diverso, cioè vedo la città in una forma diversa, quindi rispetto a quello che penso io non sarebbe un bel voto, però voglio, come dire, dare la possibilità, il mio auspicio è che molte cose vengano corrette e che si torni nella direzione giusta. Ringrazio Antonello Calvo, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica. Ringrazio Antonello Calvo,